In diretta da Genova su RBI Radio Bequita Evangelica oggi fino alle 14.30 ma la festa continua, continuerà domani mattina con il culto in diretta invece, adesso siamo a Genova San Pier d'Arena in piazza Settembrini, domani saremo al culto invece nell'altra sette che non aspetta mi sfugge William aiutami. Genova Centro via Assarotti, mi è venuto in mente adesso. Ulrike Giordano, William Giordano, pastore, pastore delle due chiese di Genova che ora sono tutt'uno ma adesso poi ci arriviamo, però Ulrike due parole su questi 160 anni della chiesa di San Pier d'Arena, ci racconti, fai un bignami della sua storia. Guarda, da 160 anni noi siamo qui a San Pier d'Arena in tantissime sedi, la comunità non so ma quasi 20 diversi sedi sempre qui nel quartiere abbiamo avuto e San Pier d'Arena è stato difficile in italiano. Sì, immagino, cioè era una parte a sé stante proprio, se ho capito bene, era proprio staccato da Genova. Sì, era a sé stante perché anche fino a 100 anni fa è stata una città a sé stante, così 170 anni fa ha iniziato tutto in centro e poi abbastanza presto dopo ha iniziato anche qui a San Pier d'Arena, però erano due città ancora ben distinte. Anche proprio come popolazione, come composizione? Ma questo c'è fino ad oggi, che la gente di San Pier d'Arena quando vanno in centro dicono io vado a Genova. Questo c'è fino ad oggi e ci sarà ancora per lungo tempo. E come comunità qua, insomma, quanti siete più o meno? Siamo una comunità contenuta, 35 membri iscritti, 25 persone al culto, però è una comunità molto vivace, canta molto volentieri e questo mi piace. Questo è da tanti anni una caratteristica della chiesa qui a San Pier d'Arena, che cantano molto forte e molto bene. C'è un bel coro che si incontra ogni settimana e questo si sente anche entrando al culto. Questo dicono tante persone che vengono, che dicono, ma qui si sente che si canta, è proprio bello. A me fa tanto piacere. Una chiesa che è diventata un tutt'uno, quindi San Pier d'Arena e Via Sarotti sono adesso un'unica chiesa del territorio genovese. William, come si è arrivati a quest'unione? Perché? Che riflessione c'è stata e soprattutto che prospettive avete? Ma allora, si tratta di un percorso appunto che non è cominciato un giorno e il giorno successivo si è arrivati, diciamo così, alla soluzione. Abbiamo cominciato nel corso degli anni, in realtà, visto che c'è sempre un po' un prima e un dopo la pandemia del 2020, già prima del periodo della pandemia, abbiamo cominciato a intensificare nuovamente la collaborazione tra le due chiese, che nel frattempo erano entrambe due chiese di Genova, l'una in Genova Centro e l'altra Genova San Pier d'Arena. E ci sembrava abbastanza naturale, forse anche per il fatto che noi ci vediamo così spesso, ci sembrava abbastanza naturale cercare di ottimizzare le energie delle chiese e cercare di valorizzare i doni che ciascuna chiesa portava e porta con sé. In questo senso abbiamo cominciato unendo, per esempio, il bollettino comunitario, abbiamo cominciato a proporre delle attività congiunte per quanto riguarda soprattutto i giovani, la scuola domenicale, cioè le attività per i bambini e le attività di catechismo. E poi a poco a poco, diciamo, pensavamo di arrivare appunto anche a quella che è veramente l'unione. Nel frattempo è accaduta appunto la pandemia che indubbiamente ha rallentato questo processo che poi ha dovuto ricominciare. In una certa misura anche proprio il periodo della pandemia che ci ha portati a fare diverse attività online ci ha permesso di incontrarci, seppure telematicamente, di più tra le persone delle due chiese e quindi anche quello in qualche modo ha aiutato questo cammino che poi nel corso degli ultimi due anni è arrivato a compimento prima con una decisione presa congiuntamente dalle assemblee delle due chiese cioè di percorrere la strada di un'unione poi appunto attraverso i diversi passaggi che sono previsti dal nostro ordinamento fino al momento in cui l'estate scorsa c'è stato il riconoscimento dell'unione di queste due chiese le quali poi nel corso dell'ultimo sinodo hanno visto nuovamente il riconoscimento della cosiddetta autonomia ecclesiastica. Posso aggiungere, per me è importante che questa non è stata una decisione che abbiamo dovuto prendere perché siamo troppo piccoli, troppo poveri perché non riusciamo più, ma è stata una decisione libera nostra e noi non intendiamo chiudere né questa chiesa qui che è bellissima né quella in via Sarotti che è più grande e anche più nel centro della città però sì, sono due parti di una chiesa che si possono aiutare a vicenda e abbiamo potuto prendere la decisione liberamente e possiamo festeggiarla e questo per me è proprio bello. È vero, hai fatto bene a sottolinearlo, sovente si parla di necessità dobbiamo fare qualcosa perché siamo in crisi, non funziona, non va bello che non sia sempre così. Poi avete deciso di iniziare soft, cioè nel senso non facciamo niente di esagerato iniziamo tranquilli, due giorni di festa, un sacco di gente e avete coinvolto le due chiese alla grande quindi insomma avete iniziato col botto subito questo percorso e un momento simbolico sarà anche domani mattina al culto perché tutti si ritroveranno insieme nel culto a via Sarotti per appunto un momento condiviso tra le chiese e tra chi vorrà partecipare. E tra l'altro non soltanto diciamo la chiesa valdese ma domani mattina celebreremo il culto anche con l'iglesia evangelica ispanoamericana che appunto vive qui a Genova oramai da 25 anni e si incontra sempre nel tempio di via Sarotti quindi è un'occasione in più anche per guardare a questa collaborazione tra chiese che sono già pienamente in comunione senza dimenticare che oggi appunto in questa giornata qui a San Pierdarena sono coinvolte tutte le chiese del nostro circuito quindi il Basso Piemonte e la Liguria sono coinvolte le chiese battiste della Liguria quindi diciamo cerchiamo di guardarci un pochettino attorno. Grazie, buon lavoro ad entrambi e proseguiamo con la musica, grazie.